La gioconoscenza di Massimo Loviso non ha bisogno di presentazione, una carriera importante, ti sei calato da subito in questa nuova realtà con il massimo della professionalità, dell'impegno, della serietà, lo ha detto testè al nostro microfono proprio il mister Guido Di Fabio. Complimenti. Grazie, è proprio quello che mi porta a fare tutto ciò, è il grande amore, grande passione per questo sport che ho ancora e ho sempre detto che a prescindere dall'età guardo anno per anno quello che voglio fare e la mia volontà è quella di giocare ancora a calcio. Il segreto è rappresentato dalle motivazioni, soprattutto è sempre la testa a fare la differenza. Sicuro, sicuro, in tutti gli anni che ho giocato a calcio, che gioca a calcio, è sempre la testa e ripeto è la pancia che mi fa andare avanti. Questo ragazzino, dovete sapere, ha soltanto 36 anni, non li dimostra affatto, io l'avevo scambiato per un under quando si è avvicinato alla telecamera, al nostro operatore Andrea Berardinelli, tra l'altro in Di hai già giocato due anni fa, se non vado orato nel Modena, compagno di squadra di Marco Sansuì. Esatto, un altro esempio di professionalità. Grande, ho un bellissimo rapporto con lui, siamo stati molto bene a Modena, ci siamo sentiti anche l'altra sera, è veramente un amico, un compagno di squadra ai tempi del Modena e gli auguro veramente tutto il bene perché se lo merita, adesso ha intrapreso questa nuova carriera di allenatore e quindi gli faccio un grande bocca al lupo. Lo scorso anno sei stato a Rende, se non vado errato, due anni fa hai vinto il campionato, anzi tre anni fa Cosenza con Braglia in C, della C alla B, come è nata questa trattativa? Ma guarda, sincero c'era una cosiddetta concorrente che è il Pineto che l'avevo sentito, mi avevano chiamato perché c'era interesse da parte loro e io ho un bellissimo rapporto con Maurizio Di Renzo, il preparatore atletico che siamo stati insieme a Livorno quando abbiamo vinto il campionato dalla Bielà. Con una cori allenatore? Con lui ci sentiamo sempre perché ogni estate vengo al mare qua, io abito a San Benedetto e quindi ho chiesto tranquillamente di avere un colloquio, ho detto sto bene e tutto, di avere un colloquio con il direttore e se c'era la volontà da parte della società di prendere Massimo Luizio. Questo c'è stato, sono molto felice, ringrazio Maurizio, ringrazio Cicchi, ringrazio la società perché mi hanno dato questa opportunità e come ho detto io ho ancora voglia di dare al calcio. Poi hai fatto la Serie A, ricordiamo a Bologna all'inizio della carriera, anche a Livorno, hai fatto tanta B, C, conosco Luizio non personalmente, l'ho sempre visto giocare, calcia benissimo la palla, le punizioni, insomma diciamo che è il tuo marchio di fabbrica. Bisognerebbe far vedere il calcio di Loviso ai ragazzini perché potrebbero apprendere molto. Guarda non si vede la mascherina ma ho un sorriso a 100 denti, non a 36. Mi fa molto piacere le parole che dici e ho sempre detto che madre natura mi ha dato questo dono. E lo dirò sempre che lo metto a disposizione della squadra perché le percentuali sui calci piazzati nel tempo sono aumentate, sono aumentate, si è arrivato quasi all'80% su gol, su palle inattive. Personalmente da quando sono piccolo l'ho sempre cercato di migliorare, di raffinare, ho avuto la fortuna di avere un maestro che è Beppe Signori quando giocava a Bologna e lui mi ha insegnato tanto. E personalmente lo voglio allenare tutte le settimane perché possono portare punti come dico e anche domenica scorsa, due domeniche fa la prima giornata su palle inattiva sono arrivati i miei gol ma la prima cosa è la vittoria, la vittoria di squadra. Perché questo gruppo sta crescendo tanto, la società sta crescendo tanto e sta mettendo a disposizione a noi tutto ciò che serve a livello professionale per crescere. Quindi veramente sono contento, sono felice ma anche se ho 36 anni sto con i piedi per terra e la squadra personalmente abbiamo voglia veramente di fare domenica dopo domenica il massimo. Ci sbilanciamo sulle possibilità di questa squadra oppure? Noi come ho detto dobbiamo fare il massimo di partita in partita. Noi vogliamo fare il massimo già da domenica, non bisogna guardare. L'ho detto prima con dei miei compagni in spogliatoio, come ho detto prima anche se è una parola, è un campionato bastardo. Quindi non bisogna guardare il fatto che l'Agnonese abbia zero punti. Noi dobbiamo fare il massimo, il massimo si presenterà già domenica di partita in partita. Allo stesso tempo io ho sempre detto che sognare è la vitamina della vita e quindi lo dico con grande sorriso, con grande entusiasmo. Grazie in bocca al lupo di cuore Massimo. Grazie a voi, grazie.